Inizio il concetto, inizio la parola a tutti voi, quattro uomini, perché stasera abbiamo quattro uomini, questo è il giornale della Sartegna, è in modo dalla compaglia e in modo alla fissera. La serata del concetto inizia con un uomini, con un uomini, con un uomini, con un uomini e con un uomini. La serata del concetto inizia con un uomini, con un uomini, con un uomini, con un uomini e con un uomini, con un uomini, con un uomini e con un uomini. Il recattore, inizialmente, rettamente erecioso, si arricchisce nel tempo di brani, chiamando dalla tradizione popolare della Sartegna a quelli del mondo, dei landalibourg, toccando alcune delle melodie classiche più note che rielaborando successi e raggiunti alla musica leggera. Nell'anno 2000 il coro si è costituito in associazione musicale, corale e strumentale San Giovanni Basista. Il coro ha sempre mantenuto viva l'attenzione verso la musica sacra e spiuffato programmi che spaziavano il cendere musicali diversi. E' intervenuto in manifestazioni cociacchistiche che vedevano i cori borsi complessi corali provenienti da tutta la fraternia, operanti dalla diluidazione della conoscenza musicale e l'attensibilizzazione alla pratica musicale a cura. Attraverso il costante tema del maestro Sergio Palama, che lo ha diretti qui da due ragazzi, e la collaborazione con il poeta Francesco Paglini, il coro ha stato preso un rapporto di risposta e manutenzione del campo popolare, capedalese, intervento la propostazione di nuovi plan ispirati alle cadenze pubbliche della politica popolare stessa. In conseguenza, con l'attensibilizzazione nuova maturata, finestra e l'attività, il tavolo del maestro Vittorio Romone, che dal giugno da Trenzi, è subentrato alla direzione del pubblico di assurdo, e tutte i nostri trasferimenti della conoscenza del territorio consolidato e affiancando adesso i nuovi interessati proposti. Iniziamo il concetto con il polvo e il polvo e il polvo e il polvo e il polvo. Il polvo e il polvo e il polvo e il polvo. Il polvo e il polvo e il polvo e il polvo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti.